Oltre 2 milioni di euro percepiti illegalmente per opere mai avviate nel comparto dell'agricoltura, GDF e Capitaneria di Foggia indagano su tre imprenditori con un sequestro preventivo di denaro emesso dal GIP del Tribunale di Foggia. Le indagini condotte dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Manfredonia hanno permesso di accertare diverse illeciti commessi al fine di ottenere contributi erogati dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché la totale omessa esecuzione degli interventi progettati e finanziati. In dettaglio i titolari delle cooperative avrebbero incassato cospito i finanziamenti europei a sostegno delle attività economiche nel settore dell'acquacoltura presentando falsi documenti per accedere a finanziamenti per oltre 2 milioni di euro. Tre delle quattro imprese e oggetto di indagine presentando polis fideiussorie false sono riuscite a percepire complessivamente 650 mila euro come anticipo sui finanziamenti concessi. Il medesimo risultato non è stato raggiunto dalla quarta cooperativa in quanto è stata raggiunta da interdittiva antimafia dal prefetto di Foggia. Una volta incassati gli anticipi sulle erogazioni pubbliche, le società beneficiarie hanno comunicato l'inizio dei lavori, ma dai riscontri eseguiti sul campo è stato accertato che nessuna opera o attività di acquacoltura era stata mai avviata, nulla che potesse supportare quelle comunicazioni, così il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto il sequestro delle somme erogate in favore delle società. Grazie. Grazie.